A seguire il dibattito pubblico italiano a volte sembra che il governo scommetta sulla stupidità degli italiani. Da un lato tutti i centri di ricerca, della confindustria, dei sindacati, le istituzioni internazionali, dal Fondo Monetario all'Oxia all'Unione Europea segnano che l'Italia è non solo in recessione ma le previsioni per il 2019 sono di una crescita zero o addirittura negativa. Al contempo il nostro primo ministro sostiene che grazie alla meravigliosa manovra finanziaria parata da questo governo alla fine del 2018 con le modalità che sappiamo, cioè senza nemmeno la discussione del Parlamento e il voto di fiducia, ebbene questa produrrà un aumento del reddito pro capita straordinario e fenomenali risultati in termini di crescita che però nessun centro di ricerca del mondo nota. Qui si gioca sulla stupidità degli italiani, si scommette che gli italiani non siano in grado di accorgersi della situazione economica facendo una serie di annunci ridicoli da un punto di vista dell'evidenza empirica, la disoccupazione che cresce, l'economia che è in recessione e tirando a campare in qualche modo. Forse si spera che possa ripetersi un dramma già avvenuto in passato quando il governo Berlusconi ci portò sull'orlo della bancarotta e arrivò Monti a fare manovre lacrime sangue per evitare il default dell'Italia. Ecco questo governo sembra prepararsi a portarci al default salvo poi dimettersi e cadere e lasciare ad altri il drammatico compito di rimettere rapidamente in sesto le finanze italiane per evitare il default, la bancarotta del paese che toccherebbe in primo luogo i risparmi degli italiani e il sistema bancario italiano. Ecco quindi una situazione drammatica che però si è già vista in passato in cui poi gli italiani hanno effettivamente presentato il conto al medico che ha dovuto come dire amputare la gamba in cancrena piuttosto che a quello precedente che aveva lasciato che andasse in cancrena. Bisogna sperare che gli italiani stiano attenti a quello che sta succedendo perché si sta giocando una partita pericolosissima sulla pelle di tutti gli italiani.